Salvatore Camarano ucciso a colpi di mitra da mano ignota Salvatore Camarano ucciso a colpi di mitra da mano ignota Salvatore Camarano ucciso a colpi di mitra da mano ignota Salvatore Camarano ucciso a colpi di mitra da mano ignota Salvatore Camarano ucciso a colpi di mitra da mano ignota Salvatore Camarano ucciso a colpi di mitra da mano ignota Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.